Massaria è un progetto corale, collettivo, mi piace definirlo così, e si sono unite tante persone che testimoniano un territorio. Ed è bella questa cosa, perché in un momento in cui siamo distanti, riusciamo a raccontare un territorio e lo facciamo insieme. La terra ha un suono, le campagne hanno un suono molto lento. Stiamo facendo una massaria. La musica rispecchia un po' il linguaggio di appartenenza di ogni uomo, come il dialetto. Infatti ogni comunità ha le sue tradizioni, ha la sua cultura musicale, ha il suo linguaggio.